In questo video puoi vedere come sono impostate le unità di pressione e temperatura sul Tiremoni Track TPMS TTM 2000X. Questo è il primo passo nella programmazione del TPMS Tiremoni Track. Premere il pulsante sinistro finché non viene visualizzato il menu. Con il menu A è già stato selezionato quello di destra. Premere il tasto invio per accedere al menu. Vedrai l'unità di pressione preselezionata. Il triangolino all'inizio della linea. Ora premi il pulsante centrale. Ora hai selezionato l'unità pressione bar. Premendo il tasto sinistro si seleziona la riga successiva e si può impostare l'unità di temperatura. E premendo il pulsante destro puoi uscire da questo menu. Quindi torni nel menu di partenza. Premere il tasto ESC per salvare le impostazioni e uscire dal menu. Il dispositivo si riavvia ed è pronto per l'uso con le impostazioni. Il nostro canale è stato costruito. 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 Il nostro canale è stato costruito.